Oggi una bellissima giornata di sport, qui a Penne con tutti questi bambini, una festa regionale. Sì, noi facciamo questa giornata di festa regionale dello sport di classe, che è un'attività di avviamento all'attività motore, più che all'attività sportiva, perché sono ragazzi della scuola primaria, quindi di terza, quarta e quindi elementare, che cerchiamo di coinvolgere nelle attività motore e nella speranza che poi possano anche continuare a fare sport al di fuori della scuola. Abbiamo pensato di fare questo evento finale qui a Penne per dare attenzione a questo luogo che è stato luogo di ricordo brutto per il periodo che c'è stato nelle nevicate di questo inverno, per la tragedia di Rigopiano. I bambini stanno portando la loro energia, la loro vivacità, il loro sorriso, quindi devo dire che stanno dando vita a una giornata bellissima. Avviare anche questi bambini attraverso lo sport e la vita sociale? Assolutamente sì, direi che lo sport è un momento per loro di socializzazione importantissimo, è un momento di, speriamo che diciamo anche queste iniziative insegnino poi a continuare con l'attività sportiva tutta la vita. Più che degli atleti devono diventare degli sportivi nei principi e anche nell'attività quotidiana.